Buongiorno amici, oggi sono un po' così perché c'è questo tempo, c'è un vento che poi è caldo, io sento freddo da due giorni, anche oggi, oggi sento più freddo di ieri, però adesso per riscaldarmi un po' andrò a correre tra dieci minuti, tempo di salutarvi. Comunque volevo dirvi, adesso ho messo tantissime storie, ho fatto tantissime sponsorizzazioni, ma questo, adesso sarà che il soggetto è la scarpa e io ho questa passione forte per ogni tipologia di scarpa, tolte, quelle che ci mettevano da bambini con le dita fuori, non so se le utilizzavano, io mi rifiutavo, anche perché poi quando ero piccola io nelle scuole elementari c'era la divisa tipo college, quindi, ballerina di vernice nera, ve lo lascio immaginare, comunque, scherzi a parte, è una cosa fantastica, ma c'è, ma avete visto quanto è bello? Allora, dicevo, le storie o durano sempre poco, sono io che parlo troppo, sicuramente sono io che parlo troppo, date un'occhiata alla pagina, e non costano neanche tantissimo, sono troppo fighe, io adesso le attaccherò alla borsa, cioè dall'interno, ovviamente l'interno la chiave, all'esterno il portachiavi, proprio perché è figo, e niente, adesso vado a fare la mia corsetta, vi mando un bacio Grazie. Grazie.